Ciao a tutti sono Crysis, oggi sono tornati in un nuovo video, andiamo a giocare a un giochino davvero strano, senza senso Dumb Ways to Die 2, esiste anche il primo ma trasciavo ogni 5 secondi e non volevo farlo apposta perché mi sarei incazzato subito dall'inizio del gioco Ad ogni modo proviamo il secondo, dovrebbe essere meglio a regola, quindi In pratica cosa consiste? Abbiamo delle specie di fagioli, non ho ben capito che cosa siano E dobbiamo riuscire a salvarli prima che muoiano, perché loro muoiono in tanti modi, i modi più stupidi del mondo che possono esistere Ok, è già differente dal primo, il primo ovviamente dovevi soltanto fare una cosa prestabilita, nel senso che ti dava a random e dei ghelli Ok, tu devi scegliere da te, dove possiamo andare, Adrenaland, Dumbest of Doom, Freezerville Challenges, andiamo a Challenges Ok Risconnective, non mi interessa Ah ma Challenges per, ah niente, perfetto Andiamo a Freezerville Vedo che giro lungo Vedo che giro lungo Don't leak the pole Vedo, penso che questi sono i livelli da fare Andiamo subito a provarli subito Io tutto vuoi di, ops, sta qua Ok devo, devo prendere gli ostacoli Altrimenti se no cazzo muoio subito perché Basta davvero poco E' abbastanza semplice Ce l'abbiamo fatta Perfetto, che grande Questo dovrei fare, swap Ah devo rimuovere peli brutti Cos'è no? Non ho fatto bene la Dump La devo saltare bene Con le buche Perfetto Grandissimo Sono già morto Mi è rimasta una vita soltanto Prendo la schiaffi No, me lo fingo io Non, non leccare il Va bene così Ok Non devo fare niente Era più semplice di quel pensavo Completa il salto Traccia Oh Ok Grande Questo fuoco alla testa ma va benissimo Cosa? Il curling con la bomba? No, cosa devo fare? No Dai 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 manca pochissimo Si Grandissimo Va bene Come un ghiaccio che non si rompe con una bomba Non, 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 non Non va assolutamente bene Siamo morti abbiamo finito tutte le vite Andiamo a fare un altro livello Che ne so Andiamo su Adrenalaland Adrenal-and Adrenaland Non so cosa sia Count to 10 Tap the screen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Andava bene così Andava benissimo così Ah non era un gioco Ma Per tenerlo in equilibrio Oh mio dio No 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 Di qua di qua di qua Di là Che grande Oh Michael Jackson Questa roba Tira la corda Dov'è? Ah la corda questa Questa Devo fare Oddio Che morte bruttissima Dove ho di animo Ok devo Grazie di animale a quello Un buon fuori felice Oddio Grandissimo Siamo in rete Devo premere veloce Abbiamo rotto Incoge Mamma mia che potenza Crash Devo tracciare il percorso Ah che bello Sono davetto di un vulcano A far sì Completa la rampa Ah devo girare Ok capito 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 Non ho capito Non ho capito Sono morto Sono morto Sono morto E' importante che non muoia io Poi Posso succedere qualunque cosa Prendimi paracadute Ma perché si deve lanciare senza paracadute Questi poveri crisi Prendilo Madonna Non ho preso il faranno Non muoio se cado Ad avonire fili Benissimo Qua è la lava Traccia il passaggio Ho sbagliato È impossibile Ma poi avevo pigiato Dai Torniamo alla mappa Facciamo un'altra mappa Andiamo su Drone Town Non so cosa sia Ma voglio fare Del best of doom Clear the door Swipe to keep safe Swipe Ah devo spostare Perché deve passare nonno Passare nonno Nonno fagiolo Vabbè Siamo a Drone Town Abbiamo uno shark jumping Dolphin rodeo Kill guard Oh mio dio Dove fare no Devo pulire Davvero Mangerà senz'altro Devo pulire i denti dell'orca Non ce la farò mai Dai 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 Maledizione Manca pochissimo Manca pochissimo Si fanno il selfie Come si fanno il selfie Ride the dolphin Skid Ah devo Ok 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 sono morto Sono morto Mi hanno portato via I delfini Nel mare Devo saltare nella piscina Mamma mia Che grande Passare Velocissimo Don't run Tap to walk Beside the pool Ok non devo correre Non devo correre Sono morto Sono scivolato Mio dio Nota Oddio Dai corri Vai 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 oh mundial Si Oh mio dio Se l'è successo Salta Salta No Non fa assolutamente bene Ma che gioco è? Ma che gioco è? La voglio fare l'ultima mappa anzi mi manca ancora Dumb Dumb e Dumb Stop Dumb voglio provare questo Clear the door ancora cioè Nonno Fagioli vuole passare gli devo scansare perché è felice Nonno Fagioli You see from the drain non voglio poi il primo episodio peraltro la mia ragazza ha un record di 8000 non so come abbia fatto non è possibile no sapete che tutta intorno ai treni cioè muoiono tutti sotto il treno perché si buttano tranquillamente per rincuorre dei palloncini o altre cazzate ok oh devo passare la bomba ma che cosa bruttissima mio dio ah ok devo premere nel mezzo picio ma oh cosa devo fare un sacco sbagliato perfetto cosa vuole fare ci hanno fulminato oh 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 no di qua ho capito ho capito devo devo ok per scanzarmi le giabellotti e che ci sono come è triste ti sei salvata la vita se è triste devo fare il nodo alle scarpe ma ti rendi conto no 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 ma che morte di merda è ma che morte è sprint ah devo correre eh si dai forse si forse si forse si mamma mia che grande parte da ultimo io sei in volta riesce ad arrivare in fondo till you stay strong ah oh no 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 oddio bambino scusa cos'è successo ho distrutto andiamo a fare quest'altra mappa l'ultima dump the stop the doom vedete che roba sia cos'è cos'è no i smartphone sono accaduti sulla ferrovia sono morti tutti mai far cadere un telefono dentro ai binari del treno siamo arrivati dumbbells di doom ah qui vanno a biglietti entry costa ma ok voglio provare ah sono sempre tipo gli stessi giochi ok forse sono più difficili stessa stessa devo scansare i giavellotti vengono più veloci forse ok via di qua grande dai è semplicissimo semplicissimo andiamo avanti velocissimi questo qui non mi riesce perché non riesco ad andare dritto sì 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 grande non voglio morire neanche una volta questa volta voglio finirlo voglio fare il record voglio fare il record e andiamo e andiamo più veloce sempre più veloce sì oh no oh no salta 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 oh dio non mi puoi laggare in questi livelli non mi puoi laggare così oh mio culo bambino maledetto bambino maledetto grandissimo ancora d devo uscire a non pietro nono 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 no oh 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 vabbè ce l'ho fatta ce l'ho fatta devo chiudere le finestre devo chiudere come sono morto yuhuu no non no manca l'ultima vita ok devo fare il laccio le scarpe udio il tempo il tempo il tempo ma come ce l'ho fatta ero sicuro provare la ruota della sfortuna devo fare devo girarla ok vediamo cosa succede l'ho ucciso buona fortuna per la prossima volta ok mi fido team over 600 punti beh concludo qua il video questo era dumb waste dice 2 è un gioco davvero che non ha senso ma volevo farlo volevo provarlo se il video vi è piaciuto commentate mettete un mi piace noi ci vediamo un prossimo video iscrivetevi al canale e ciao a tutti ragazzi ciao a tutti